Ciao, sono Giada Pondini, ho 20 anni, quindi sono del 97 e sono centrocampista, possibilmente centrale e vengo da Bagno di Romagna, un piccolo paese in provincia di Fornicesena. Ho iniziato sei anni in una squadra di maschi e ho continuato fino ai 14 e dopo sono dovuta andare via, per forza di cose. Ho fatto due anni a Castelvecchio, in Serie B e poi appena è stata promossa la squadra di San Zaccaria, in Serie A, sono andata da loro, ho fatto tre anni e quest'anno ho scelto di venire a Sassuolo per rimettermi un po' in gioco, per cambiare aria e vedere dove posso arrivare. A me sembra un bel gruppo, quindi mi sono già trovata bene subito con tutte le compagne e sono contenta di aver fatto questa scelta perché mi sembra una squadra molto competitiva dove possiamo secondo me arrivare molto in alto, conoscendo già un minimo il campionato di Serie A. Sicuramente c'è un ritmo molto più alto, quindi è dura in campo, 90 minuti sono tanti, ma il ritmo è bello alto e il livello soprattutto è alto perché ci sono giocatrici molto forti. Il mister a me piace tanto, anche perché ho visto che lavora molto sulla tecnica, sul possesso di palla, ho visto già dall'inizio che ci ha dato dei consigli a noi centrocampisti o comunque a tutti, dei consigli che comunque a me magari mancavano anche già da prima. Ero stata seguita un po' meno forse e adesso invece sono contenta perché vedo che comunque il mister ci sta molto dietro a tutte. Fare bene assolutamente perché voglio capire fino a che punto riesco a arrivare e se riesco a giocarmela con le altre ragazze vorrei mettermi in gioco.